Buonasera a te e a tutti gli amici di Visione all'Ascolto. C'è una novità perché è virtualmente fatta per Davide Ghislandi, classe 2001, un terzino destro che si è messo in evidenza lo scorso anno nella Turris, girone C della campionato di Serie C. 26 presenze con la squadra campana allenata da Bruno Caneo che è il nuovo tecnico del Padova, c'è l'accordo sia con il procuratore del calciatore Fogacci che con l'Atalanta per il prestito secco. Dunque ha messo a posto negli carri la fascia destra con Saccani e Ghislandi, anche la fascia sinistra con l'ingaggio di Milani dal Pontedera e di De Marino dalla Juve. Qui cambia però la formula, avevamo parlato di un prestito biennale dalla Juventus per il classe 2000, invece Davide De Marino arriverà in prestito con obbligo di riscatto solo in caso di Serie B. E' saltato nella giornata di ieri, ne abbiamo parlato con dovizia di particolari e la centrocampista del Padova Simone Della Latta, malgrado l'accordo tra il Pescara e il suo agente, l'ex biancazzurro Luca Puccinelli. E oggi a Milano il DS del Pescara, Davide Dellicarri, ha incontrato Augusto Carpeggiani, procuratore del classe 95 Davide Mazzocco, legato per un'altra stagione alla Cittadella. Il giocatore però non rinnoverà Paolo, dunque attesi sviluppi, si tratta di un interno di centrocampo, meno incursore della Latta, ma più tecnico. Mazzocco, lo ricordiamo, collezionato circa 130 presenze col Padova, vincendo il campionato di D nel 2015 e quello di C nel 2018 con il tecnico Bisoli in B, circa 80 presenze con Padova, Intella e appunto Cittadella. Per quanto riguarda il ruolo di regista, c'è stato un tentativo nelle ultime ore di Dellicarri Paolo per il brasiliano Ronaldo della Padova, classe 90, giocatore di assoluto valore in Serie C. L'operazione però è troppo onerosa perché Ronaldo ha altri due anni di contratto, c'è stato il contatto tra il procuratore Mariano Grimaldi e Dellicarri. Grimaldi chiede un anno in più, ma a 150 mila euro netti a stagione, insomma l'operazione è troppo onerosa. Altro giocatore attenzionato in quella parte del campo è Igor Radrezza, ne avevamo già parlato nelle scorse settimane, classe 93 della Reggiana, però c'è una clausola da pagare, da versare per liberare questo giocatore pari a 70 mila euro. Ebbene, Dellicarri ha risposto alla Reggiana, ok, ma solo in caso di Serie B. Insomma, la situazione è da seguire, ma è sempre in piedi la trattativa per Salvatore Pezzella, ex Siena di proprietà della Roma, e tutto è rinviato alla giornata di domani. Abbiamo già detto degli ingaggi definiti di Saccani, Cuppone e De Marino, e poi virtualmente fatta, lo ripetiamo ancora una volta, per il terzino destro Davide Ghislandi, classe 2001, ex Turris, di proprietà dell'Atalanta. Te.